Il titolare, colui che è sempre impostore Vabbè insomma, trollato, e niente Succulenta questa call, e... ah bene, quindi abbiamo già ridotto una... È graciato lui È graciato, ok, no no, ma tanto la mia kill, la mia call è su... No no, la mia call è o su Anammo bene o su Broke, più su Anammo bene Anammo bene, ti piace giocare con gli interruttori? Allora, io li vedo spenti, li accendevo e poi li spegnevano Ah, e se ti dico che eri l'unico lì? Perché io non c'ero, io ero separato Io non lo stavo facendo No, 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 vi spiego la scena, vi spiego la scena Mi avvicino a fare le luci e vedo che iniziano a muoversi tutti gli interruttori totalmente a caso Prendo, esco da quella schermata e inizio a controllare chi è lì E sono due persone, Broke e Anammo bene Io mi allontano, se allontano Broke, l'unico che rimane lì a giocare con gli interruttori è Anammo bene Io posso confermare che erano sia Broke che Anammo bene perché ce l'ho poi lì, ho ma separato A un certo punto mi sono messo a fare le quest avanti perché non si facevano le luci Io ci provo Allora, o Anammo bene o Broke? Questo spasmo di premere i grilletti? Ma io voglio accendere, ma ti spengono Posso spiegare? Vai Sono arrivo, sono solo, inizio a fare Poi iniziano ad accendersi e spegnersi Tipo un po' dico, maffanculo, me ne vado via E mi sto proprio andamone via Sì, sì, dove isola E ce l'abbiamo ancora Sono giù, sono giù Non ce la farete mai Non ce la farete mai Ma io le accendevo, mi si spegnevano Con l'asciugamare Scusami una cosa, come fanno a quelle accese a spegnersi se sei l'unico sull'interruttore? Appunto, non lo so, c'è quel problema Io ragazzi sono solo che ho visto tipo due o tre persone che facevano elettricità No, deve farlo lui No, stavo facendo tasca Io non l'ho capito perché l'avete salvato Ma raga, ma se era solo e faceva Ma come faccio? Ma che palle Ma come me la gioco? Raga, faccio una tattica distruttiva Nessuno mi vedrà mai Lo sapevo È morto Nade Vicino all'Orengine Comunque Per strappare una risata Era in live e ho detto No, no, ma io di lui mi fido ma avrebbe già potuto uccidere Appena finita la frase mi ha cricato Insomma Io ero a destra con sia hop che berri Ossigeno Io sono il cadavere Block Blockato in storage Foglia Broke Navigation C'è una botola però L'overengine che porta Reactor Per foglio No, ma foglia Foglia arrivava da admin Io posso dire Broke perché Broke è andato in basso a sinistra Allora per questa Raga, aspettate Ma hop Secondo te non è self report? Visto quello di poco fa Secondo me è self report Ma Però Però Raze Raze No, ne hai detto che Adesso c'ho Adesso l'ho sentito Allora è Broke Allora è Broke Allora è Broke Allora è Broke Posso fare una domanda a Hop? Ho e foglia Ho po' una domanda Ma tu hai visto Raze Adesso Sì l'ho visto Ok, io no Perciò fare una domanda Vai vai Broke All'inizio Quando c'erano le luci Voi Voto E non so chi Che era venuta Poi le luci Che c'erano le luci dentro Io Broke Ecco Voi avete visto Hop entrare? Sì Sì Ah ok Scusa Pensavo Nite Nite Volevo chiedere una cosa a Barry Invece Hai fatto qualche Tasking E' triste No Sei sicuro? Sì Fra Se mi hai visto Tipo fecare Perché seguendo la freccia Mi sono confuso Ok Invece raga Una cosa molto veloce Qualcuno Prima del report Era passato Dalla We're Engine Eh no La kill è stata fatta Un po' di tempo fa Secondo me è stato Broke Probabilmente Ray Viro a destra No Bro ma infatti Io l'ho visto passare Da sinistra Io l'ho visto arrivare Viro a destra Sì Però a me pensavo Mi trastassero in più Foglia 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 Mio caro amico Foglia Oggi È la sua fine Il giorno in cui Raziv Non si farà più comandare Da questi insulsi profani Della legge Per questa volta ti salvi Foglia Ciao Broke Addio Sì 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 Volevo dire una cosa Mi stai facendo puzzare troppo Barry Perché hai fatto questa call E se mi insai Barry Eh ok Io vorrei Dire che Per me andiamo bene clean Perché Ha fatto un timing troppo preciso E tu hai chiamato Per questo Per dirmi questo Lo potevi dire dopo Però io ho fatto il giro da sinistra Una cosa importante Qualcuno ha visto Broke? No Io Io ho visto Broke Raga andiamo bene Dove l'hai visto Barry? Aspetta Fai la call Fai la call Eravamo io E andiamo bene in caffetteria Sono andato a sinistra Ho fatto tutto il giro Quando c'erano i lights E ho visto Broke Che era in apparengione Come Poi sono sceso E ho suonato dall'altra parte Sono passato da storage Potrebbe essere anche sette ore Pura ancora Ok Te sei arrivato là sotto Quindi è normale E che vuol dire? Allora ragazzi Potresti essere anche te Ma pure tu potresti Tutti potremmo essere Allora Vedi con te Posso dirvi una cosa Una cosa Allora Io inizio round Sono andata in weapons Insieme a Broke Per fare Meteoriti Mi sono cagata addosso Perché pensavo fosse lui Quando mi aveva arrivato addosso Invece non mi ha ucciso E è andato a sinistra Ma sono stato io Bro? Cioè Bro No 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 Aspetta È andato lui a sinistra Si sono spente le luci E mi sono passati Ray e andamo bene Appunto Andando verso giù Andando verso giù Weapons Quindi ossigeno E sono arrivati da sinistra Ho visto poi Quando si sono accese Le luci di caffetteria Ma non c'era niente Non sono riuscita a vedere Upper Engine Chi era a sinistra Posso chiedere? Non lo so Tu? A sinistra c'era qualcuno Sicuramente tu? C'era io Io e gli altri Chi erano? L'altro killer Io e Chi era quell'altro? Io ero a sinistra Solo per andare A risolvere Electrical Perché se no Sono sempre stato adesso Sì l'ho fatto io Electrical L'ho visto Foglia E' tornata dentro Ho un chi voto E' no Ma bene Per la cosa iniziale C'era qualcun'altra A sinistra No non è anamorga Non è anamorga Raga per la cosa iniziale C'era qualcun'altra A sinistra oltre a me Bro se non ti risponde L'altro è il killer Il zio No no Però io ho fatto il giro Non ero Se non ti risponde Che a sinistra È il killer Io voto Non è anamorga Ma io schifo No bersghiamo Ma che cazzo fai bro Non lo so Non lo so Io ho votato Rage Non lo so Però Perché Rage Vabbè Io continuo a pensare Sia Rage Però non mi fido Non è anamorga Raga perché abbiamo Scrivato Raga raga Non mi fido Tutta fuori nessuno Perché non sappiamo Dove Abbiamo perso ragazzi No raga Ragazzi Ragazzi Non ne buttiamo fuori uno Abbiamo perso Siamo morti Siamo morti Perso Ok Se volete votare me A cazzo di cane Fatelo Ma non schippate Non è a cazzo di cane Perché è morto Praticamente Fratelli Io ero a destra E ho Due millesimi di secondo Dopo che ha chiamato Io ero a destra E ho Ma visto Che ero a destra Tu eri a sinistra E tu hai detto che ero io Capito Tu non hai alibi Io si Capito amore mio Ma te non ne hai Come fai ad avere alibi Ma sei scemo Ma cosa vuol dire Se l'hai visto Non è che Io navigavo verso destra Il morto è a sinistra Ma è a sinistra T'ho visto io Alla fine era sinistra Voto tu chi voteresti Io voterei Rai Rai tu chi Io andamo bene A per la cosa iniziale Barry Ah Rai Non mi sento Andamo E grazie al cazzo Sei il killer Ragazzo Votatemi per data Eh sulle poche col che abbiamo Io continuerei a votare Rai Nezzo poi per favore Sposteremo Più che altro Andamo bene Non possiamo votare Perché Non domanda Ragazzi Non domanda 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 Non riesco a bici Io non voterei Rai Cioè non lo so C'ho troppi pochi sospetti Ma se io adesso Ho visto pure Hopi Vabbè Votate Ragazzi No dobbiamo buttarlo fuori Cioè andamo bene Secondo me Cioè Buttarlo fuori Per la prima call A casa Ma tu stai votando me a caso Non mi hai visto mai Ragazzi Non è a caso Ma cosa Secondo me Il problema Il problema È che siamo in sei Ma non abbiamo call Perché prima Barry ha chiamato il pulsante Ed era molto Appunto Ma pure lui è sospetto Votate a me Ma mi spiegate perché Dovete votare a me Se Barry ha fatto il pulsante Se Annama ha fatto la cosa iniziale A cazzo di cane Perché dovete votare a me Perché non ha fatto niente Perché se voi mi dite che Broca era a sinistra Io Rai Ti ho visto andare a sinistra Io Hopi Ho detto che mi ha visto Ma non c'entra Ma che cazzo vuol dire Scusami Scusami Voto però Non ha senso votare Ray così Perché anche Annama Veniva da sinistra Cioè Non Non Annamo non l'ho visto Per quello di Corez E ma anche Annama Veniva da sinistra T'ho detto io Trano le luci spence Venivano da sinistra Ray e Annama Io non mi fido di Annama Raga Io non lo so raga Cioè io non voto Perché Annama Non lo so Non voglio buttare Un mio compagno fuori a casa No raga Posizioni Communication Communication Anzi shield Annama Stavo sistemando le robe Comunque ero appena entrato in admin Foglia Security Ray E attore Ragazzi Ray O è una Cioè O è una call di Hopi O è O un auto report di Hopi O chi Perché dici io scusami Ancora Perché Ho telecamera Ho visto voto Caffetteria che scendeva Verso storage Annama bene A destra Verso navigation O almeno Scusami Ma Se fossi stato io Sono due le bottele Ho telecamere O Madbay Telecamere c'eri tu e non mi hai visto Ma io telecamere Io fai conto Sono intratto in telecamere Con le luci spente E mi sono messo lì Sì Ho visto Hop scendere Che ma Sì sì Dove è morto il corpo Hopi Posso saperlo Electricità Io nel reattore È un incogno Raga Allora Io Ah elettrisite Allora potrebbe essere Rezzi Ma ti ripeto Io stengo il reattore Dovevo passare per da foglia Ma secondo te prendo la botola Con foglia lì Telecamere Ma non devi per forza Passare la foglia Può uscire benissimo E nessuno L'hour Lower engine Che mi ha visto Vede che nessuno era Hai spento le luci spente Hai spento le luci L'hai ammazzato Vabbè sì grazie Eppure io posso dire queste cose Ah no Hai acceso le luci Poi l'hai spento Hai ucciso Posso dirti questo Rezzi Perché io ero in caffetteria con te Adesso sei sceso Io sono da destra Allora Facciamo una cosa Poi hanno spento le luci Con un terrestore Raga Facciamo che Sono ancora due Gli impostori Mettiamo che Fraston non era Ok Sono ancora due Sicuramente non sono Andiamo bene Voto Perché erano a destra Siamo o io Ma se c'è stata una solo kill Non è vero Perché erano a destra Però il corpo era già morto Le luci non mi ricordo Quando sono scattate Quanto tempo prima Almeno 10 secondi 10 secondi Non c'era il tempo Non c'era il tempo Per loro di venire Ma non è vero C'era il tempo per loro Di andare via In shield Raga Io continuo a votare Mi state troppo Focussando su di me però Io voto a Namo No no Cioè La perdete così Potete votarmi Ma la perdete ragazzi Io schifo Secondo me la perdete Io schifo Perché non voglio buttare Fuori Rez Però io ti dico Re Non ho buttato in tempo Non ho buttato in tempo No ho mito in tempo